Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSCoverwatch Il mio nome è Quintone 8 e quest'oggi siamo tutti guiriniti per guardare un'altra prova E chi appare, possibilmente, un altro cheater By the way ragazzi, voglio andare in live alle 3 Perché è il mio compleanno e quindi se avete voglia vi lascio il link in descrizione Andrò in live alle 3 con un po' di CS E daremo via durante il live questo bellissimo Hit her from behind Il gut knife aid Ho deciso che siccome è il mio compleanno sono io a dare i regali Perché sono fatto così Esplorando il corpo umano Questo video è sponsorizzato da Skinscash.com Sei stanco di vendere le tue skin e aspettare settimane perché qualcuno le compri? Su Skinscash.com puoi venderle in maniera istantanea e farti arrivare direttamente i soldi su Paypal Al costo di una piccola percentuale il sito ti darà i soldi e si prenderà le tue skin Senza che tu debba aspettare che qualcuno le compri Come succede su Opi Skins per esempio Se vuoi saperne di più visita il link in descrizione È il mio referral link quindi mi dai una mano se lo fai Skinscash.com è così veloce e facile da utilizzare Che anche alcuni dei cheater che becchiamo negli Overwatch Nonostante i loro evidenti ritardi mentali Riuscirebbero ad utilizzarlo Skinscash.com mi pagano per farvelo conoscere Non per farvelo piacere Ok ragazzi ci siamo Siamo Sudas2 Nostro spettato è T Sta vincendo 11 a 8 Sta facendo fottio di kill 32 kill 9 morti 6 MVP 2 3k 1 a 4k 50% di HS Sta giocando con lo scout Attualmente Mira il mid con lo scout Piglia Sonar in maniera bruttissima Estremamente fisci Dai dai Dammi un regalo per il mio comprensione Mi sembra che stia guardando il muro pesantemente comunque Cioè Non era neanche Non era neanche il crosshair positioning Non c'era il crosshair Mi stava proprio guardando il muro sul tizio Si Si Fa un altro HS in mid I'm calling walls Io sto già chiamando i muri ragazzi È il mio compleanno E il sospettato mi dà una gioia Nel farsi bannare il bastardo Attualmente ha 35 kill il sospettato Mi piace come Mi piace come mira Tipo tutto a destra Non ha mirato neanche le porte Ha mirato proprio il muro di Cosa verso City Spond What? Che cazzo fai? Sospettato Comunque Va verso B E E Lo aspetta Si È walls È palesemente walls Ora dobbiamo solo decidere se è anche trigger o altro È palesemente walls Ma proprio palesemente walls Cioè Questo È Il giorno del mio compleanno Devi venire e cittare Perché? Perché? Non è giusto Cioè è giusto perché così almeno ti banno Che c'hai anche un paio di skin E te le leviamo dal cazzo No? Così sparisci Uh Uh Abbiamo il bunny hop Abbiamo il bunny hop Signori Abbiamo il bunny hop Va lì Complimenti È il muro quello Cretino È il muro Guardalo Guardalo il merda Attenzione Va verso B What? Ma No No Continua ad essere un muro Continua ad essere un muro Sopettato Si al trigger comunque Ha palesemente trigger O O un Silent aim Un trigger Perché colpo non era neanche vicino alla testa Oggettivamente Però quello Quello era corpo Non è trigger comunque Non è Ha fatto ace oltretutto Il merda Ha fatto ace Comunque non è trigger Credo Che sia un Qualche tipo Un silent aim Settato bene Bastanza bene Neanche tanto Però tipo si spare alle spalle Pigli in testa Roba del genere Mentre l'altro L'ha colpito È stato È stato Outwall Laccato Il sospettato È stato Outwall Laccato Signori Il giorno del mio compleanno Neanche il kiwi Si è donato Di venire in game Non c'è il kiwi Sì Va bene Beh oddio Se avesse avuto Silent aim L'avrebbe preso in testa Forse Oddio Magari Magari non si espande Sopra il CT Ma solo sotto Può essere Sì dai Qualcosa Qualcosa ce l'ha Fa troppi HS Siamo a 80 HS Raga 80 Non 80 Numero 80% di HS 43 10 Attenzione Eccolo lì 44 10 Va a prendere la bomba 1v1 Sai esattamente dov'è il CT Avversario Perché è stronzo Perché c'ha la mamma zoccola E E E E Smoke Smoke per passare Vi prego uccidilo L'hanno ucciso Il merda è morto Non ci credo Ah Poteva Clacciare il round Facile Ha deciso Di fare il cretino Chi è che mi scrive Basta scrivermi Smettetela Stop Sto registrando Non dovete cagare il cazzo Quando registro Adesso scopriamo chi è Loco Chi cazzo è Boh I don't know Va bene così Intanto Ah Loco è uno dei Ai tempi Di CSS Mi ha scritto Che fine hai fatto Dove sei Quanto tempo Va bene Va bene Ok adesso me lo ricordo Comunque Planta la bomba Sospettato Nella posizione Più sbagliata Cioè Non c'è una posizione Più sbagliata Di quella Dove l'ha plantata Adesso Il sospettato Perché Sei scoperto Mentre planti E I ct sono coperti Quando defusano Cioè È sbagliata A dei livelli Cosmici Cosmici Comunque Eppure Pure il jump scout No scope Addirittura Sì comunque Qualcosa per lei Palesemente Sennò quello Non gli sarebbe Mai entrato Non è così Bravo Sospettato E E E E E E E E È morto Di nuovo By the way Ha Il Il Blacky Spruce Spruce Perché ha il mirino nero Praticamente Cioè C'è poco È uno Spruce Proprio brutto È un blue Spruce Proprio brutto Va bene Va bene La cosa bella è che E questo è lì a fare assi Sono un figo Sono fortissimo Sono veramente Cioè dovrei entrare Ne cloud nine Shroudo con lo scout E mi fa una pippa E no la pippa La fai tu a noi A due mani Perché Devi ripagare Altri 10 euro Per poterti comprare CS di nuovo Brutta merda Tanto E ci sono i Non conosci Neanche La mappa Basilare Del gioco Porco il cazzo Neanche quella Conosci Ma cosa fai Ma cosa fai Crettino Fai pure il figo Ha sparato 8 ore dopo Cioè C'ha C'ha i riflessi Di un macaco Con le morroidi Ma che schifo Ma dai Ma dai Delta col Negev Però Delta col Negev Ha started a new thing Però Sospettato lo mette a sedere Di nuovo Perché Riesce a vedere La trossa in muro Intanto Prende la bomba Sospettato Sì Prende la bomba Rely Rely Intanto sonar Con l'autosniper Viene ucciso Allora abbiamo E mi assiste in sicuro Vi c'è un assiste in sicuro Perché o ha O ha un no recoil Che Perché tutti i shot Che ha fatto in movimento Con lo scout Non sei così preciso In movimento Quindi o ha una specie Ha un no recoil Che sullo scout funziona Che cammini e spari Ok Corri e spari E questo vorrebbe dire Anche per il jump scout Che ha fatto Vuol dire che tanto Il recoil non c'è Oppure Ha Un Un qualcosa Comunque per aiutarli L'em assistance Other external assistance Perché ha il bagno Opscript E l'abbiamo visto Questo è proprio Una merda Nel giorno del mio compleanno Noi lo bagniamo Vaffanculo Il mio nome è Come sempre Guitonwait Fatemi sapere cosa ne pensate Ciao a tutti Gioco ai videogames Da quando avevo Due anni Adesso sono il re Del let's play Wanna wait